Le penne al laconese sono un piatto celebre in tutta la Val di Sieve. La ricetta originale è ben custodita nelle cucine della casa del popolo di Acone. Se vogliamo provare a farne una passabile imitazione a casa nostra servono due salsicce, 40 g di funghi porcini secchi, una cipolla, due peperoncini, tre pomodori pelati, 40 ml di panna e ovviamente 100 g di pasta a persona. Le dosi per il condimento sono sufficienti per circa 8 porzioni. Reidratare i funghi in acqua tiepida per almeno mezz'ora, meglio se di più. Per prima cosa spellare le salsicce e sminuzzarle, poi tritare la cipolla, non importa che sia troppo fine. Mettere il tutto in padella con olio d'oliva, aggiungere il peperoncino e far andare almeno una decina di minuti. Nel frattempo scollare i funghi e tritarli grossolanamente. Tritare anche il pomodoro e mettere in padella. Se necessario aggiungere un po' di acqua e di funghi, il condimento non deve risultare troppo asciutto. Far cuocere ancora almeno 10 minuti, poi passare tutto al mixer aggiungendo la panna. Infine usare la salsa per condire la pasta, penne ovviamente. Il condimento che avanza può essere congelato.